Per Vittorio, ex agente di commercio invalido, questo è il 100% e il lockdown non è mai finito. Sono infatti da almeno 4 anni che per via dell'assoluta impossibilità di fare le scale, lui e sua moglie Luisa hanno chiesto, con il parere favorevole anche degli altri condomini, l'installazione di un piccolo montascala ai bordi della rampa che conduce all'ascensore. Una spesa peraltro non particolarmente esosa, ma dall'amministratore di condominio mai alcuna risposta. La signora Luisa, particolarmente intraprendente e combattiva, perfino ha sollecitato l'intervento delle istituzioni attraverso i buon uffici del deputato Luciano D'Alfonso e perfino dell'ex sindaco Marco Alessandrini che in qualità di avvocato ha inviato allo studio dell'amministratore una PEC alla quale non è mai giunta risposta. Luisa e Vittorio, molto conosciuti nella zona stadio di Pescara, hanno ricevuto il sostegno di tutto il quartiere, addirittura si sta pensando anche a una petizione. Anche noi abbiamo provato a contattare lo studio dell'amministratore di condominio, ma ci siamo dovuti accontentare di un messaggio in segreteria e attendiamo delucidazioni. Vittorio, con estrema dignità, prosegue la sua vita da segregato, passando le intere giornate davanti al computer. Quelle poche volte che è riuscito a mettere il naso fuori casa è stato grazie all'intervento di mezzi sanitari o alla buona volontà di qualche conoscente che lo ha preso di peso per fargli scendere una piccola rampa di scale. Mi sento stringere il cuore quando mi dice aprimi più la finestra e farmi entrare un po' d'aria, perché lui non ce la fa scendere. Quattro anni di richieste all'amministratore, mai nessun tipo di intervento? Nessun intervento. Nessuna risposta, non intervento. Nessuna risposta. Con l'avvocato, D'Alfonso, l'avvocato Brandimarte. Niente. Tra l'altro un intervento che non è nemmeno molto caro, un seggiolino movibile al vanoscale. Sì, sì. Mi fece il preventivo qua lui, mi disse non ti viene neanche caro. Dice solo ci mettiamo la chiave che lo possono adoperare tutti, però mettiamoci una chiave che sai i bambini, che daremo a tutti gli inguilini. E gli inguilini, quelli che ci sono rimasti, sono tutti del parere di fare. Sono tutti d'accordo nel fare questa opera all'interno del palazzo, ma l'amministratore da quattro anni non si decide. Non lo so, io non so neanche il motivo. Ecco, non ti so spiegare perché e per come. Ricordiamo che, insomma, sono interventi che vanno fatti per legge questi. Sì, beh, penso di sì. Penso di sì. Suo marito come vive questa situazione? Eh, poverino, seduto davanti al computer, dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Ecco, questa è la situazione. Non c'è nient'altro da aggiungere, né da levare né da aggiungere. Grazie. 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 Grazie.